Potrebbe la profezia di Vicca rivelarsi una guida spirituale per l'umanità in questo momento critico della storia? Prima però, ti chiediamo solo una gentilezza, iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare i nostri messaggi di fede. Nella tranquilla cittadina di Meggiugorie, situata nelle colline della Bosnia e Derzegovina, sorge una piccola parrocchia che ha attirato l'attenzione del mondo intero a causa delle presunte apparizioni della Madonna. Al centro di questo affascinante scenario spirituale emerge una figura di straordinaria importanza, Vicca Ivankovic-Mijatovic, una delle sei presunte veggenti a cui la Madonna sarebbe apparsa per la prima volta nel 1981. Vicca, una donna di straordinaria fede e dedizione religiosa, ha sempre rivestito un ruolo centrale nelle testimonianze delle apparizioni e nell'accompagnare i fedeli nel loro percorso spirituale. Tuttavia, fu in un giorno di particolare solennità che questa umile veggente fece un annuncio che avrebbe scosso la comunità religiosa di Meggiugorie e oltre. Era una giornata di calma serenità, in cui la parrocchia si preparava per una messa speciale in onore della Madonna. Vicca si trovava nella chiesa, inginocchiata e immersa in preghiera, quando improvvisamente le sue mani iniziarono a tremare, e la sua espressione si trasformò in una mistica intensità. I fedeli presenti notarono un'aura di sacralità che circondava la veggente, mentre i suoi occhi sembravano trasportati in un'altra dimensione. Fu in quel momento che Vicca, con voce ferma e vibrante, annunciò la profezia che avrebbe segnato un punto di svolta nella storia spirituale di Meggiugorie. I presenti ascoltarono attentamente mentre la veggente proclamava parole che sembravano provenire direttamente dalle sfere celestiali. La profezia, densa di simbolismo e mistero, parlava di un grande cambiamento che sarebbe avvenuto nel futuro della comunità religiosa e del mondo intero. La notizia si diffuse rapidamente tra i fedeli, suscitando una miscela di emozioni tra la sorpresa e l'entusiasmo. Vicca di Meggiugorie, conosciuta per la sua semplicità e la sua devozione, si trovava ora al centro di un'enigmatica profezia, e la parrocchia e i suoi sacerdoti si affrettarono a cercare il significato di quanto annunciato dalla vigente. L'annuncio di Vicca di Meggiugorie scatenò un'ondata di emozioni contrastanti tra i fedeli, che si affollavano nella piccola chiesa di Meggiugorie per ascoltare le parole della veggente. Vicca, con occhi ancora trasfigurati dall'esperienza mistica, rivelò il contenuto della profezia con una voce che portava un senso di autorità divina. La profezia annunciava un cambiamento epocale, che avrebbe coinvolto la comunità religiosa di Meggiugorie e si sarebbe esteso a livello globale. Il messaggio profetico parlava di un periodo di transizione e purificazione spirituale, in cui l'umanità sarebbe stata chiamata a tornare alle proprie radici spirituali e a riscoprire il vero significato della fede. Vicca aveva descritto questa fase come un tempo di grandi prove, in cui la fede dei credenti sarebbe stata messa alla prova, ma anche un periodo di speranza e rinascita. La profezia conteneva anche riferimenti a eventi specifici che avrebbero segnato questa epoca di trasformazione. Vicca aveva predetto eventi naturali straordinari, come terremoti e fenomeni meteorologici intensi, che avrebbero richiamato l'attenzione dell'umanità sulla necessità di una maggiore consapevolezza spirituale. Inoltre, la veggente aveva annunciato un segno celeste che sarebbe apparso nel cielo, un segno che avrebbe portato molte persone a riflettere sul loro cammino spirituale. La reazione dei fedeli alla profezia di Vicca fu immediata e travolgente. Molti credenti si sentirono toccati e ispirati dalle parole della veggente, percependole come un messaggio divino diretto a loro personalmente. Le testimonianze di coloro che avevano assistito all'annuncio di Vicca parlavano di una sensazione di presenza divina che pervadeva la Chiesa in quel momento. Tuttavia, non tutti accettarono la profezia con la stessa facilità. Alcuni si mostrarono scettici, mettendo in dubbio la veridicità delle apparizioni mariane e delle parole di Vicca. Questi scettici chiesero prove concrete per sostenere la profezia e si rivolsero ai teologi e agli esperti religiosi per una valutazione più approfondita. La comunità religiosa di Medjugorje si trovò divisa tra coloro che abbracciavano la profezia come un messaggio divino e coloro che rimanevano cauti. I dibattiti e le discussioni teologiche si intensificarono, alimentando una fervida riflessione su cosa potesse significare questa profezia per la loro fede e per il futuro della parrocchia di Medjugorje. L'annuncio di Vicca aveva gettato un'ombra di mistero sulla comunità religiosa di Medjugorje, aprendo la strada a una serie di eventi che avrebbero influenzato il destino della parrocchia e delle persone coinvolte. Mentre i credenti continuavano a cercare il significato profondo della profezia e a prepararsi per ciò che il futuro avrebbe portato, l'attenzione globale si concentrava sempre più su questo enigmatico annuncio e sulle sue implicazioni. La profezia di Vicca di Medjugorje, densa di simbolismo e mistero, scatenò un acceso dibattito tra teologi, esperti religiosi e credenti. Il significato simbolico delle parole della veggente divenne oggetto di intensa speculazione e analisi. Alcuni interpreti vedevano nella profezia un richiamo alla necessità di un risveglio spirituale globale, un appello a riscoprire la fede e la spiritualità in un mondo sempre più secolarizzato. Altri, invece, suggerivano che la profezia potesse essere una metafora per le sfide e le prove personali che ogni individuo avrebbe dovuto affrontare nel proprio cammino spirituale. Queste interpretazioni invitavano i credenti a riflettere sul loro rapporto con la fede e sulla necessità di una trasformazione interiore. Il dibattito teologico si arricchì anche di discussioni sulla natura delle apparizioni mariane a Medjugorje e sulla credibilità di Vicca come veggente. Alcuni teologi sottolineavano che le apparizioni della Madonna erano un fenomeno unico e inusuale, che richiedeva una rigorosa verifica teologica. Altri ritenevano che le apparizioni fossero un segno divino, destinato a rafforzare la fede dei credenti. Dopo l'annuncio della profezia da parte di Vicca, la comunità religiosa di Medjugorje si mobilitò per prepararsi a ciò che era stato predetto. Le chiese si riempirono di fedeli in cerca di conforto spirituale e di risposte alle domande sollevate dalla profezia. I sacerdoti e i leader religiosi di Medjugorje tennero serate di preghiera e incontri di riflessione per affrontare l'importanza di questo messaggio profetico. Tuttavia, ciò che attirò l'attenzione del mondo fu un evento apparentemente straordinario, l'apertura del tetto della chiesa principale di Medjugorje. Questo evento avvenne in un momento in cui centinaia di fedeli erano riuniti nella chiesa per una messa speciale in onore della Madonna. Improvvisamente, mentre il sacerdote stava celebrando la liturgia, il tetto si aprì, rivelando un cielo stellato sopra di loro. La notizia di questa visione spettacolare si diffuse rapidamente, attirando l'attenzione dei media e dei pellegrini da tutto il mondo. Alcuni lo considerarono un segno celeste in linea con la profezia di Vicca, mentre altri rimasero scettici attribuendo l'evento a una coincidenza o a un problema tecnico. Tuttavia, per molti fedeli, l'apertura del tetto rappresentò una conferma della validità della profezia e un ulteriore stimolo a riflettere sulla loro fede. Il dibattito teologico innescato dalla profezia di Vicca di Medjugorje si intensificò nel corso del tempo. I teologi di diverse tradizioni religiose si interrogarono sul significato profondo delle parole della Veggente e sulla validità delle apparizioni mariane a Medjugorje. Alcuni esperti religiosi considerarono la profezia come una possibile guida per la comunità religiosa e un richiamo alla conversione spirituale. Tuttavia, altri si mantennero scettici, sottolineando la necessità di una rigorosa indagine teologica e una verifica critica delle apparizioni e delle parole di Vicca. Questo scetticismo fu alimentato dalla complessità del messaggio profetico e dalla mancanza di prove tangibili a sostegno delle affermazioni della Veggente. Dopo l'evento straordinario dell'apertura del tetto nella chiesa di Medjugorje, molte persone continuarono a cercare risposte e significati più profondi. Per alcuni, l'apertura del tetto rimase un segno di speranza e di presenza divina, mentre per altri fu interpretata come una coincidenza senza alcun significato spirituale. I leader religiosi di Medjugorje organizzarono una serie di incontri e dibattiti per discutere il significato dell'evento e la sua relazione con la profezia di Vicca. Alcuni sacerdoti sottolinearono che l'apertura del tetto avrebbe potuto rappresentare una sorta di apertura spirituale per la comunità, un invito a cercare una connessione più profonda con Dio e a abbracciare la fede con maggiore fervore. Tuttavia, la comunità religiosa era divisa tra coloro che vedevano l'evento come una conferma della profezia e coloro che lo consideravano semplicemente un evento eccezionale senza alcun significato divino. Il dibattito sulla veridicità della profezia di Vicca e sull'evento del tetto aperto continuava a infiammare le conversazioni e a richiamare l'attenzione di credenti e scettici di tutto il mondo. In chiusura, la profezia di Vicca di Medjugorje e l'evento dell'apertura del tetto avevano gettato un'enorme ombra di mistero sulla comunità religiosa di Medjugorje e sulla fede dei suoi fedeli. Mentre alcuni abbracciavano entrambi come segni divini di speranza e cambiamento, altri rimanevano scettici e alla ricerca di prove concrete. La storia di Vicca e della sua profezia serviva come un poderoso richiamo alla riflessione sulla fede personale e sulla comprensione del divino. La comunità religiosa di Medjugorje continuava a essere un luogo di pellegrinaggio e preghiera, dove i credenti si riunivano per cercare una connessione più profonda con Dio e per cercare risposte alle domande spirituali più profonde. In ultima analisi, il futuro rimaneva avvolto nel mistero, e la profezia di Vicca di Medjugorje e l'evento del tetto aperto rappresentavano una sfida e un'opportunità per tutti i credenti di riflettere sulla propria fede e sul proprio rapporto con il divino. Mentre il mondo continuava a osservare e a discutere questi avvenimenti, la comunità religiosa di Medjugorje perseverava nella sua ricerca di significato e speranza, mantenendo viva la fiamma della fede. Grazie per averci seguito, alla prossima!